non vorrei che mi scornano se usciamo vivi da qua siamo al posto anzi se non mi portano via oggi siamo al posto ah e in vi? no no in Italia eh? spieghi qui yes su e su che spettacolo di posto ragazzi guardate eccoci qua ragazzi ragazzi mi sto lasciando le spalle quel di Napoli per ripartire per il nord per rientro a casa oggi prevista fermata a Firenze non vi porterò in moto perché farò tutta la strada visto che danno acqua eh tanta acqua quindi non riesco a portarvi con me comunque magari ogni tanto vi farò vedere quando mi fermo eccoci ragazzi oggi piove forte io vi consiglio quando c'è il tempo così un po' dal cacchio magari fermatevi ogni tot mi sto fermando tipo ogni area di servizio visto che è distanziato ogni 50 km mi fermo giusto per darmi giusto per darmi un'asciugata un po' al coperto e poi riparto e niente i guanti guanti qua anche sotto l'acqua stanno dando i suoi frutti i suori sono zutti ma dentro sono asciutti quindi ottimi eccoci qua a Firenze siamo sul ponte vecchio eccoci qua a Firenze так secco ci Grazie a tutti. E che altro dirvi ragazzi? Vi ringrazio di aver seguito questa serie di video. Il mio giro d'Italia finisce non proprio qua, domani rientrerò. Però volevo salutarvi da questo contesto spettacolare e grazie ancora di aver seguito questi video. Vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e alla prossima! Ciao ciao! Non vorrei che mi scornano. Se usciamo vivi da qua siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. Ah, è in via. Ah, no, in Italia. Ah, spieghi qui, dovevi essere. Sono insu. Che spettacolo di posto ragazzi, guardate. Eccoci qua ragazzi. Allora a vote. Allora a votare. Allora a votare. E il votare. A votare. E va, è in via. Allora a votaret. E vi синuma.